Una bella esultanza, un gran bel punto, però che era mai successo in fare una routine a colazione così perfetta con una bella salta? Il mio è stato meglio al final che non ho lì, io non ho fatto niente. Io lo prima che faccio quando mi arriva la pala guardo la di Natalia, perché lo conosco abbastanza, e dopo visto che la pala mi ha arrivato e devo tirare, sempre guardo la di Natalia, ma non mi piace che favore, però mi stavano a guardare qui tirato. Ci avete fatto assicurare questa vittoria un'impresa facile, non è stato proprio una quarantina, non è un'impresa facile. Siete stati bellissimi qui? Sono stati fortissimi, però era importante non comprare questa partita, perché giocare contro la Fiorentina, che è stato molto importante, e poi c'è la partita che ha fatto con la Colonia, per la partita che si fa con la Fiorentina, e noi eravamo solo quali. in questo modo è difficile, però è importante da vincere. Penso che oggi abbiamo fatto molto avanti con la presentazione che abbiamo fatto. Avete una tanta tranquillità questo trasfale, è vero? Siete molto sicuri? Penso che sicuro lo fa il lavoro, lo fa il MIS, è proprio uno che sta sempre vicino al curatore, che ci ha dato tanta fiducia e quali importanti del mondo del mercato. Adesso c'è il Milan da raccontare. Cosa prevedi? Una partita importante. Penso che io, che sono un calciatore, mi devi arrivare con la partita, perché il Giovan è una squadra importante, è quello che ha la squadra dei campioni e quella squadra, e riportiamo lo che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto una bella partita, una bella partita del calcio italiano, e noi andremo a fare la partita della Milan. La posizione di oggi, che avevi in campo, sei rimostrato di adattarti per le posizioni? Praticamente come ti entro? Bene. Non è tornato a quello lavoro che hai fatto, se hai bisogno di un mese fa, con un mese palino, però bene, l'importante è lavorare, e inizio con il mio padre della settimana, che devo trovarmi bene, perché quest'anno abbiamo fatto collaborare di qua, perché abbiamo potuto anche partita. La ultima cosa all'antelica per il gol? Il mio papà. Come è tu? Grazie. Guido Lina ha detto di te che sei andato molto bene, e soprattutto ha detto che in questa posizione nuova puoi fare anche molti gol. Sì, mi ha detto che... La settimana mi ha detto che se arrivo alla porta devo tirare, non devo dare tutti la palla di Natale, solo guardare la porta e tirare solamente quella. Un obiettivo stagionale di gol? Te lo sei fatto? Eh, no tanto. L'importante era vincere, non pensavo a fare gol, però come ho detto prima, lui tutta la settimana ha lavorato con me, ha parlato con me, e anche io ho giocato tante volte in questo posto. Ti piace comunque giocare da interno e non sulla faccia? Sì, abbiamo tanti compagni che giocano in un ruolo differente, l'importante è farlo, perché abbiamo tante partite da quello mese, è importante che almeno riposi, passare il riposo, abbiamo due giocatori per posto, questo è importante. Grazie.